E' presente ormai da ben 11 anni a Sciacca lo sportello antiviolenza che opera all'interno del Palazzo di Giustizia e cui fa riferimento non solo la città ma anche tanti comuni dell'Interland. Un territorio difficile dove tante donne continuano ad avere paura a denunciare la violenza subita, che si rivolgono allo sportello dopo avere già subito diversi episodi di violenza. E' un contesto in cui non si riesce a superare il concetto di famiglia erroneamente intesa come proprietà, dichiarano oggi al nostro telegiornale la responsabile del centro Elina Salomone, la psicologa Daniele Mancuso. Il nostro territorio non è un territorio facile, soprattutto i paesi limitrofi dove ancora c'è il concetto di proprietà della famiglia. Quindi non è facile, noi sono 11 anni che lavoriamo in questo territorio e con molte difficoltà anche perché non c'è un contesto poi di riferimento, di sostegno molto forte. Difficile, difficile, lo trovo difficile, in certi momenti più difficile ancora, anche perché la violenza fino a quando è quella riconoscibile fisica e allora è peggiore per certi punti di vista, però è facilmente individuabile. La violenza psicologica, quella economica e tutte le altre forme di violenza più subdole, più cattive e più occulte, quelle sono più difficili da smascherare, anche più difficili da denunciare. Chi si rivolge a voi, che tipo di aiuto chiede, cosa vi racconta? Da noi si rivolgono spesso persone già che hanno subito vari tipi di violenza perché come abbiamo detto ce ne sono tantissime, da quella psicologica a poi quella anche fisica. Da noi vengono persone che hanno tanta paura in realtà perché spesso si pensa che denunciare significa perdere i propri figli, perdere il proprio benessere. In realtà noi cerchiamo anche con l'aiuto degli avvocati a chiarificare un po' la propria situazione. E poi grazie ai nostri colloqui si riesce a capire un po' dove si vuole andare perché chiaramente per il nostro codice dentologico non possiamo mai spingere a denunciare. Però cerchiamo insieme alla persona di capire innanzitutto se sta subendo violenza, come dicevamo poco fa, quindi un percorso un po' di chiarificazione. E poi capire insieme quali sono le varie strade che si possono intraprendere da quel momento in poi.